Ciao Natale alle porte e dopo le fatiche del 2019 abbiamo deciso di prenderci una meritata vacanza. E quindi eccoci qua a rilassarci alle isole Bahamas. Ragazzi ma non era meglio inventarci una bugia più credibile? Cioè almeno potevamo metterci in costume. Ok lo ammetto io sono tornata qualche giorno a casa qui ad Amsterdam ma prima di partire ho registrato con Mirko una nuova sigla di Rusty Rivets. Stavolta il nostro eroe affronterà avventure preistoriche e di conseguenza questa nuova sigla sarà un po' più tribale. Eh sì stavamo scherzando in effetti anch'io sono a casa sono a Roma ma da qui posso però aggiornarvi su tutte le novità televisive di dicembre. Su Netflix è arrivata una nuova serie di World Party Parola in Festa. Invece dal 20 Cartoon Network dedica a Darwin il fratello del nostro Gamble una serie tutta sua dal titolo Il Diario di Darwin. Auguri alla nostra sorellina Maura Cenciarelli per questa nuova avventura. E infine sul Dea Junior è iniziata la terza stagione di Super Wings con la sigla che cantiamo in duetto con Stefano Bersola. Super Wings Stato dal fumetto di Zero Calcare per cui ho realizzato la colonna sonora originale. E tanto per parlare di TV, su Rai 3 la trasmissione Blob ha dedicato proprio a Cobane Colling un'intera puntata. Mi dici una sera di queste che sei libero che invito a cena Fabrizio e Anna? Ci tengono tanto a vederti! Ti hanno visto nascere troppo! Oh insomma sto super inficciato sto periodo. Dopo domani c'ho la gastroscopia. La settimana prossima vado in Kurdistan e qua. Dopo c'è sta la fiera del dattero illustrato. Eh? In Kurdistan? Durante la festa abbiamo tutti più tempo libero. E quindi possiamo sentire e vedere le nostre sigle in versione integrale qui nella playlist musica fotonica. Oppure potete ascoltare la nostra musica direttamente in TV. Ecco qua dove! E quindi anche da Roma buone feste, buon anno, buon tutto. A presto, ciao! Auguri Maremmani! Ci vediamo presto fotonici amici miei! Auguri a tutti! Chico! Epa! Auguri! Raggi fotonici on YouTube Megli un mi piace! Segui i raggi fotonici anche su Instagram e su Facebook! Iscriviti a questo canale! Ecco, sì, bravo, vai col dittino proprio lì! Bosa privo! Epa! Iscriviti a questo canale!